signori e signori buonasera benvenuti a casa mia benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria tra inter west ham atletico madrid e monaco 1860 con la bandiera giapponese che mi fa da aureola e mi rende particolarmente figo vabbè signori scusate allora mi rimetto un po in pari con i miei ultimi acquisti allora sono grazie al cielo tornato un pochino in grana e mi sono messo a riprendere a ricomprare qualche libro finalmente perché era da un po che avevo diradato le spese dalla mia fidata spacciatrice di di carta stampata l'amica linda gasparucci allora signori si torna a parlare di libri si torna a parlare nuovamente di del grande storico ian kershaw con il suo operazione valchiria la storia dell'attentato a hitler del 20 luglio 1944 se ben vi ricordate ho recensito l'anno scorso il libro di joachim fest proprio sui complotti contro hitler e siete caldamente pregati di recuperarlo e di guardare il video nella timeline del canale allora ian kershaw in operazione valchiria ci parla del piano ideato nel 1944 per assassinare adolf hitler era il tentativo disperato a opera di un gruppo di ufficiali tedeschi di redimere la germania e porre fine alla seconda guerra mondiale fu un'impresa eroica perché i protagonisti erano consapevoli che le loro possibilità di successo erano poche e che un eventuale fallimento li avrebbe condotti a morte certa volevano lasciare un messaggio preciso alle generazioni successive ovvero sia che c'erano stati tedeschi che comprendendo i mali del nazismo avevano deciso di combatterlo un appassionante ricostruzione degli avvenimenti di quei giorni cruciali presso la tana del lupo quartier generale del führer quando i congiurati riuscirono ad arrivare a un passo dal successo la cronaca di un complotto che avrebbe potuto cambiare il corso della storia e salvare milioni di vite allora l'operazione valchiria il complotto insomma la bomba di von stoffenberg l'attentato a hitler del 20 luglio 44 è uno degli eventi più studiati sicuramente della seconda guerra mondiale il tentativo disperato onorevole velleitario folle di un gruppo di gentiluomini chiamiamoli così di un gruppo di uomini di un gruppo di persone che credevano profondamente in valori come la come l'onore la l'umanità e la come dire l'onore anche della loro patria cercandola di salvare da una distruzione che si prospettava imminente cercando di salvare anche l'onore di una germania macchiato dai crimini spaventosi del nazismo allora Kershow analizza punto per punto con la sua consueta abilità di storico e di narratore le vicende dell'operazione valchiria il prologo l'attentato e la brutale crudele feroce spaventosa questa repressione perpetrata dai nazisti contro i congiurati dell'operazione valchiria Joachim Fest in obiettivo hitler che avevo recensito circa un anno fa ci spiegava come si giunse a valchiria ci spiegava cosa accade ai congiurati di valchiria Kershow non si limita a questo Kershow ci fornisce anche il programma dei congiurati di valchiria ci fornisce anche i documenti che come dire gli ordini secondo cui si sarebbero dovuti muovere i congiurati del piano valchiria un piano che fallì perché come spiegai quando quando recensì obiettivo hitler quando recensì obiettivo hitler di fest io spiegai chiaramente che valchiria l'operazione valchiria fallì così perché i congiurati non ebbero la forza di superare i propri scrupoli molari e di fare pulizia completa comportandosi come insomma siamo sinceri ripetendomi nuovamente i congiurati di valchiria erano nobiluomini militari di carriera vecchio stampo c'erano filosofi c'erano religiosi c'erano pensatori c'erano come dire esseri umani che vedevano in hitler il il parlo il il demonio distruttore che avrebbe portato alla catastrofe la loro amata germania e come dire kershaw ci fornisce in questo libro oltre a una magistrale ricostruzione della dinamica dei fatti di valchiria ci fornisce anche i documenti gli ordini dei congiurati ci fornisce ci fornisce il programma politico dei congiurati congiurati che giova ricordarlo nuovamente non erano di sicuro progressisti non erano di sicuro di sinistra tutt'altro erano di idee erano nazionalisti erano di destra insomma non erano sicuramente orrore degli orrori progressisti o comunisti ecco detta così com'è si trattava di uomini che c'è si trattava di uomini che però vedevano in hitler il demonio che avrebbe distrutto la loro amata patria che avrebbe distrutto la germania insomma che dire se il piano valchiria avrebbe avuto successo la germania sarebbe stata trasformata non certo in una repubblica socialista sovietica tutt'altro sarebbe diventato probabilmente uno stato simile concettualmente al cile di pinochet tutto qui perché era la formazione culturale dei congiurati di valchiria hitler disse chiaramente che la lotta di classe lui aveva dopo valchiria dopo l'attentato del 20 luglio 44 secondo le parole di kershaw hitler disse chiaramente di avere sbagliato a condurre la lotta di classe puntando soltanto ad annientare l'opposizione di sinistra valchiria gli fece capire che avrebbe dovuto guardarsi anche da destra e inoltre gli fece preparare insomma era nei progetti dopo valchiria hitler progettò dopo l'operazione insomma dopo l'attentato del 20 luglio 44 hitler progettava di sterminare completamente la nobiltà terriera tedesca di sterminare completamente l'alta borghesia e la destra se vogliamo nazionalista non nazista era nei piani di hitler kershaw ce lo racconta la storia di uomini coraggiosi di uomini che ebbero il coraggio di tradire di uomini che si sacrificarono cercando di salvare l'anima di se stessi e del loro paese tutto qua uomini che come ho già detto in occasione della recensione di obiettivo hitler di fest uomini che non ebbero il coraggio di passare sopra i propri scrupoli morali si sarebbero dovuti comportare come i loro nemici avrebbero dovuto eliminare da subito tutti i loro nemici himner goebbels goering kalten brunner eccetera eccetera sterminarli dal primo all'ultimo e comportarsi né più come uno squadrone della morte sudamericano o come un gruppo di fuoco dei corleonesi guidato da totori non ebbero il coraggio di farlo non ebbero la forza di passare sopra i propri scrupoli morali persero tempo tentennarono cincischiarono furono sfortunati e non riuscirono a mettere in atto il piano la pagarono estremamente cara furono i più fortunati furono fucilati o si suicidarono gli altri furono barbaramente impiccati appesi come quarti di bue al macello secondo la descrizione di hitler hitler disse io voglio vederli pendere dal gancio del macellaio come quarti di bue e questo fecero morirono con coraggio morirono con dignità morirono salvando la propria anima come si può dire dimostrarono volendo volero tradire volero passare da traditori volero affrontare a tutti i costi quello che sapevano essere un tradimento per salvare la propria anima per salvare l'anima e l'onore della germana fallirono non ci riuscirono il libro di kershaw narra la loro storia narra la dinamica le vicende e la come dire le conseguenze il prologo e le conseguenze dell'attentato del 20 luglio 1944 e ci lascia anche i preziosi documenti sui programmi del gruppo dei congiurati e sugli ordini che emanarono dopo lo scoppio insomma dopo l'attentato a rastenburg tutto qui quindi cari signori come sempre aian kershaw operazione valchiria leggete questo libro leggetelo che leggere non vi fa mai male e scoprirete come dire un lato molto poco conosciuto del più famoso atto terroristico di tutti i tempi fino all 11 settembre 2001 praticamente l'attentato a hitler ad opera di von stoffenberg e dei congiurati dell'operazione valchiria un sanguinoso fallimento un tentativo coraggioso un tentativo ahimè oltre che sfortunato anche pianificato in maniera non perfetta tutto quindi cari signori ripeto operazione valchiria aian kershaw un libro da leggere per conoscere uno degli eventi più tragici più sconvolgenti se vogliamo della seconda guerra mondiale il dilemma umano e morale di un gruppo di ufficiali tedeschi che decisero di tradire per cercare di salvare la propria anima e l'anima del loro paese tutto qua quindi come sempre aspetto i vostri commenti come sempre arrivederci al mio prossimo video come sempre ciao